Abbiamo una missione istituzionale che è quella di garantire proprio le libertà di culto e di tutte le fortezioni religiose e quindi fin dall'inizio abbiamo seguito questa possibilità di pervenire a un protocollo che ovviamente doveva tener conto di quelle che erano in un momento particolare che stiamo vivendo in tema di Covid-19. Mi pare che il lavoro che abbiamo fatto insieme ha dato un ottimo risultato e analogo impegno abbiamo assunto anche con le altre confessioni religiose proprio in virtù di questa nostra missione istituzionale tant'è che abbiamo fatto già un incontro con tutti gli altri per pervenire anche con le altre confessioni religiose a un protocollo che sia analogo pur rispettoso dei principi di ciascuna religione. Quindi questo è un primo passo ed è certamente importantissimo per noi e quindi sarà prossimo anche un inteso raccordo, un protocollo con tutte le altre confessioni con cui già abbiamo avuto un incontro e adesso siamo cercati di formalizzare il testo. Quindi grazie ancora a lei Eminenza e grazie al Presidente che ha voluto oggi che fossimo tutti presenti alla firma di questo importante momento. Grazie.